Siamo proprio nella traversa sottostante via Michele e Mazzella. Sulla mia sinistra potete vedere la discarica a cielo aperto, che si è creata nel tempo. Nei giorni scorsi, con un dettagliato servizio giornalistico, abbiamo denunciato lo stato di degrado e di abbandono sociale in cui versava la traversa di via Michele e Mazzella, posizionata di fronte al deposito dell'Eavbus, che da mesi era diventata una vera e propria discarica a cielo aperto, dove facevano brutta mostra di sé carte, cartone, bottiglie di vetro, suppellettili, rifiuti ingombrandi, erbacce e fogliame. Ebbene, dopo il nostro servizio giornalistico e le vibrate lamentele dei residenti della zona, finalmente la suddetta stradina è stata pulita dagli operai dischi ambiente, che hanno anche provveduto a rimuovere i rifiuti ingombrandi che ignoti incivilmente avevano abbandonato per terra. L'augurio è che da ora in avanti l'amministrazione comunale guidata da Enzo Ferrandino si ricordi di pulire periodicamente, oltre alle strade centrali del paese, anche questa e le altre traverse secondarie.